Lazio-Milan il giorno dopo. Siccome ci sono diverse cose che volevo affrontare a mente fredda, rieccomi. Intanto ci tengo un grazie praticamente generalizzato alla community, perché non era semplice venire qui ieri sera e mantenere i toni calmi. Ho apprezzato infinitamente laziali e non che hanno cercato di fare discorsi senza finire con insulti, senza finire con polemiche inutili. Veramente una rarità di questi tempi su internet, specialmente se si parla di calcio. Quindi intanto veramente un grazie, perché poi siete il motivo per cui cerco di venire qui senza avere spesso e volentieri, nei limiti di quello che mi è possibile a caldo, senza avere pareri distruttivi, ma cercando sempre in qualche modo di fare discorsi che abbiano un minimo di senso, spero. Quindi grazie, intanto questo ci tenevo. Detto questo, due paroline due. Allora, a freddo la rabbia non mi è passata per niente, nel senso che sono ancora particolarmente agitato. Se ce li penso mi ritorna su tutto e ho lo stomaco bloccato. Però, però, allora, sono passate diverse ore e non mi riesco a dar pace per il fatto che Pellegrini sia stato espulso in quel modo, ma soprattutto perché non capisco perché non abbia dato un calcio a quel pallone per farla finita, no? Perché credo veramente quello sia stato il classico e proverbiale turning point della partita, no? Lì se non ti espelle il giocatore è un'altra partita, è un'altra partita. Però, ripeto, la responsabilità è prevalentemente del ragazzo, perché è stato ingenuo, come dicevo ieri. Però, siamo umani, se può sbagliare, vabbè, non è un problema. Un elemento su cui volevo soffermarmi, non l'ho fatto ieri sera, è che effettivamente, al netto di tutto, noi a volte siamo veramente, viviamo un mix di sfortuna e di, se vogliamo, anche un po' di incapacità nel gestire certe situazioni. Perché ieri, sulla 0-0, Lazio stava rischiando effettivamente di vincere la partita. C'è stato quell'episodio con Immobile che, che sottoporta, ha sbagliato un gol, non da Immobile. Non era, non era così facile, però manco così difficile. E da Immobile, in quel momento, tutto d'aspetti, tranne che, no? Però, discorso Immobile che si estende anche a Kastegianos, nel senso, noi abbiamo veramente due attaccati in questo momento in grossa difficoltà. Io adesso non ho voluto recuperare, perché non gliela faccio a guardare i numeri in questa fase di stagione, non ho voluto recuperare il numero dei gol, ma, andando a memoria, mi sembra che Kastegianos se ne abbia fatto uno, e Immobile non so quanti, ma pochi. Quindi, è un'annata un po' così, che noi paghiamo in maniera, a volte, fin troppo significativa, ma perché tutto quello che viviamo è poi il frutto di tante altre situazioni. Nel senso, oggi, quello che mi sono chiesto stamattina, quando mi sono svegliato, pensato a sta partita è stato, ma sarei così incazzato, e mi sarei incazzato così tanto ieri, se la Lazio quest'anno non avesse buttato una caterva di partite, probabilmente sì, mi sarei arrabbiato comunque, ma mi sarebbe passata prima, guardando la classifica. Purtroppo, noi oggi vediamo questa partita come qualcosa di devastante, perché è in relazione anche a una stagione in cui non siamo riusciti a far girare, come si deve, nulla. La Lazio sta a 40 punti adesso, non certo per demerito carmico di ieri. Ieri è stata l'ennesima goccia per noi tifosi, ma purtroppo, osservando le cose più lucidamente, bisogna dire che è una stagione proprio storta da ogni punto di vista. Poi è chiaro che in una stagione in cui già sei sensibile, perché tifoso parlo, a partire come ieri ti fanno uscire di testa, io ieri sera ho fatto fatica a dormire, non mi capitava da anni, parlando di cavo, anni ragazzi, ma veramente andavo forse a scuola l'ultima volta, che mi sono venuto così tanto e non vado a scuola da 36 anni, per cui sono passati i tempi. Comunque, un paio di altre cose. Allora, che ce tengo, ragazzi, cioè nel senso, io per quanto sia tifoso, per quanto inevitabilmente l'essere tifoso a volte mi possa condizionare in certi ragionamenti, però ho la presunzione di credere di essere abbastanza lucido e abbastanza oggettivo al netto del mio essere di parte, inevitabilmente, inconsciamente di parte. Vedere tanti contesti, e qualcuno c'è stato anche qui, ma in maniera, devo dire, educata e rispettosa, per cui lo accetto senza alcun tipo di problema. Però, parlare di quello che è accaduto ieri a Casteggianos e paragonarlo, e tirar fuori oggi la questione di Di Marco dell'epoca, io capisco che si debba sempre far benaltrismo in questo meraviglioso paese, su tutto c'è sempre qualcos'altro che ci impedisce di affrontare insieme un problema. Però vorrei ricordare, per quel poco che può valere la parola del sottoscritto, però vorrei ricordare che all'epoca la situazione era un po' diversa, e non perché io sia laziale e all'epoca ne abbiamo beneficiato noi. Fermo restando che io non stavo in campo, quindi da me non è che si possa pretendere chissà che cosa. Però, all'epoca, chiunque abbia visto la partita, ben ricorderà che la polemica nacque dal fatto che l'Azio non restituì palla, sì, non la buttò fuori, sì, perché l'Inter era andata in porta poco prima. Cioè, con l'uomo a terra l'Inter l'aveva giocata. Giustamente, perché era legittimamente loro diritto farlo. Andarono in porta e tirarono, e poi sulla ripartenza la Lazio non buttò fuori palla, ma non si era fatto dalla testa, tra le altre cose. E l'arbitro non reputò adeguato interrompere il gioco, proprio perché non c'era stato un colpo alla testa. Cosa che ieri c'era stata. Ma non è questione di... Cioè, nel senso, non è che siccome ipoteticamente fosse anche successo all'epoca, non è che siccome è successo una volta, allora vale per sempre. Se una cosa viene gestita male, viene gestita male. E purtroppo uno dei grandi problemi del calcio attuale, che ci impedisce come tifosi tutti, di portare eventualmente a decambiamento, è proprio questo tipo di mentalità. Cioè, quando c'è un problema, un evidente errore a volte, ora che questo lo sia o meno, stanno tutti a decidere la cosa autonomamente, però dico, di fronte a un errore conclamato, non c'è mai l'unione e la compattezza, ma c'è sempre il benaltrismo. È però quella volta, è però, è però, è però. Eh, ma allora quella volta che non si va da nessuna parte così. Si fa il gioco di un sistema che vuole esattamente questo. Frazionamento affinché non ci sia mai compattezza nel chiedere dei cambiamenti, nel pretendere un sistema un po' più trasparente. E quindi, io per quello che tante volte, a costo di essere definito pro questo o pro quello, cosa che non sono, perché io posso avere le simpatie e le antipatie, ma a mente adesso la Lazio. Però, tante volte, mi schiero, rispetto a certi episodi, che non riguardano la Lazio, proprio perché mi piacerebbe promuovere un tipo di mentalità un po' meno circoscritta al proprio orticello, ma aperta a un sistema, che è il motivo per cui, per dire, in Europa io tifo apertamente le italiane. Proprio perché mi piace fare discorsi che siano di interesse collettivo e non di interesse personale. Fin quando non si comprende il valore, l'importanza e l'utilità dell'interesse collettivo, non si andrà da nessuna parte. E oggi è toccato a noi, anzi, ieri è toccato a noi, la settimana prossima toccherà qualcun altro. Perché questo è il problema. Perché poi, che io debba leggere che Di Bello viene messo in pausa per un mese, ma che soluzione è? Ma che soluzione è? Se fa un mese di vacanza e poi torna a fare quello che fa. Bene, contentissimi. Io, il calcio è l'unico settore, l'unico contesto professionale in cui ci possono essere degli errori macroscopici con conseguenze devastanti, senza che per coloro che hanno commesso quegli errori ci siano delle conseguenze conclamate. Cioè, in qualsiasi mestiere, se io faccio un danno enorme, mi cacciano via e mi chiedono magari anche i danni. Nel calcio ti danno il periodo di pausa. Perché? Perché il sistema è quello che è. Ma va bene, dicevamo ieri, è legittimo, è legittimo, e quindi si fa. Ma a tal proposito, visto che si parlava e se avessi colto nel marasma l'avrei approfondito, ieri Gendosi non è stato espulso per doppia munizione, ho detto una cavolata, è stato espulso per, cioè, espulsione diretta, quindi il VAR poteva intervenire, il VAR poteva intervenire, e quindi che stavano a fare? Non si sa. Quella non è espulsione neanche nei campionati primavera di qualche paese del quarto mondo, ok? Non lo è mai. se, insomma, se una sala VAR sostiene che invece lo sia, abbiamo un ulteriore problema, secondo me. Quindi ora che Gendosi si prenderà almeno due giornate, perché adesso norma di regolamento deve prendere due giornate almeno, per non aver fatto praticamente nulla, in un contesto in cui, no? Ecco. Quindi ci sono tante cose che andrebbero dette, ma che purtroppo, ora, ho letto le digrazioni di Lotito al riguardo quello che è, che sono, sono, non so onestamente quale base giuridica abbiano, ma per quel poco che capisco credo non ne abbiano granché. Poi eventuali giuristi tra coloro che ascoltano potranno chiarire a me e a tutta la comunità delle idee su questo fronte, ma credo che si possa fare ben poco sulla base di quello che ha detto. L'unica, l'unica possibilità è quella di, non so manco io quale sia l'unica possibilità, però insomma, credo che ci siano sedi in cui ci si può far valere in qualche modo, anche solamente per portare all'allontanamento definitivo di certi, di certi professionisti che forse non sono, non sono poi così adatti a certi livelli, però, ripeto, non so onestamente cosa succederà e non mi interessa il principio di compensazione che potrebbe arrivare poi, perché non è la soluzione a niente, non è la soluzione a niente. però, chi è causato nel suo mal pianga a se stesso, regge dal famoso detto, la Lazio è in quella posizione di classifica per propri demeriti, che non, che non, che è un qualcosa di assolutamente scollegato però dalla partita di ieri. Un conto sui demeriti di squadra, di una stagione veramente da dimenticare, un conto è la partita di ieri, che è stata oggettivamente gestita in maniera poco lucida in più di un momento. Poi sul resto, ragazzi, ripeto, sono delle stesse posizioni che avevo ieri sui vari episodi, non, però, ecco, diciamo che non mi sono piaciute le parole di Pioli, le ho trovate fuori luogo, diciamo che non ha perso occasione di non farci rimpiangere il suo addio, ma non ce n'era bisogno, caro Pioli, non ti abbiamo mai rimpianto comunque, diciamo che ieri è stata l'ennesima dimostrazione, perché diciamo che avendo vissuto la Lazio e i Laziali mi sarei aspettato magari delle dichiarazioni un pochino più, boh, non lo so, non lo so, mi sarei aspettato delle dichiarazioni un po' diverse, però, comunque, ragazzi, questo è adesso, adesso c'è la partita di martedì e ripeto, io, come vi dicevo ieri, mi auguro davvero con tutto il cuore che la Lazio riesca a reagire forte alla partita di ieri, che la prenda come uno stimolo enorme, ora è chiaro che la Champions l'hai già salutata da diverse settimane, non è non certo per la partita di ieri, però mi auguro che vogliano, vogliano in qualche modo reagire in queste ultime giornate e imporsi in un certo modo sul campo, giocandole tutte come le hanno giocate ieri, ieri la Lazio al primo tempo ha giocato molto bene, io, se vedessi la Lazio giocare così tutte le settimane sarei contentissimo, a prescindere da risultato, non mi interesserebbe poi, e credo onestamente che se avessimo giocato tutte le partite di quest'anno con il piglio del primo tempo, forse avremo 10 punti in più, almeno, almeno 10 punti in più, ecco, diciamo che le prime, le prime due, tre giornate di questo campionato, se le giocavi come hai giocato ieri il primo tempo con il Milan, vincevi 4 a 0 tutte e tre le partite, però, vabbè, c'è poco da fa, purtroppo la stagione è andata così e va bene, e va bene così, però, dispiace, ragazzi, penso che chiunque segua il calcio avesse vissuto una serata come quella di ieri dalla prospettiva del Laziale avrebbe reagito, credo almeno come ho reagito io se non peggio, quindi, insomma, mettersi anche nei panni del tifoso che sta vivendo qualcosa potrebbe aiutare a volte a evitare tante polemiche, ma ripeto, non parlo di qui, qui non c'è stato nulla che mi abbia spinto a dire tranquillissimo, quindi niente ragazzi, io vi saluto, passate un bel fine di settimana, soprattutto i Laziali, passate un bel, anche se so che sarà difficile perché la rabbia per questa partita ci passerà l'anno prossimo probabilmente, però, che tocca fa? ragazzi, sempre Forza Lazio, testa martedì, speriamo bene, leviamoci una soddisfazione, ecco, almeno levarci questa soddisfazione di passare questo turno dei Champions sarebbe un cerotto sul cuore in questo momento, che non la vinci mai sta Champions, ma è normale, però, con questo Bayern, in questo momento di stagione, sarebbe veramente una prova di forza, una carezza al tifoso e tante altre cose che posso dire che secondo me ce la meriteremmo pure, per poi magari ai quarti salutare con dignità la competizione, però, io sti ottavi a questo punto, a questo punto li vorrei tanto superare e spero che il gruppo riesca ad affrontare questa partita con la giusta rabbia, però anche con la giusta lucidità che ieri purtroppo è mancata un po'.